Questa sera, signore e signori, proveniente dai più remoti angoli del mondo, dove le arti oscure regnano incontrastate, vi presento un uomo che ha svelato questi misteri per dimostrare come le leggi della natura possano essere piegate. Stasera vi presento... Eisenheim. Un uomo che incanta una nazione. Mi serve un volontario del pubblico, qualcuno che non tema la morte. Un amore proibito. So che sei stata con lui. Questo non riguarda voi. Sì, invece tutto riguarda me! Un segreto che minaccia un impero. Vuole rovesciare suo padre. Non sarete imperatore. Lei conosceva il suo segreto. Quale segreto? Vi consiglierei di non accusare nessuno. Non farti coinvolgere. Lascialo, Sophie. Non è facile. Non illudetevi di poter giocare al loro gioco. Non c'è trucco che non abbiano già visto. Promettetemi di non rifarlo. Vi prometto che gradirete il nuovo spettacolo. Cosa fate? Fermo! The Illusionist. È un'illusione. Forse c'è la verità in questa illusione.